Deve essere bello anche da lì, da quel paesino lì, di cui non ricordo il nome, perché da lì si vede il panorama da questa parte e si può vedere Aurano, Scareno che rimane qua dietro e in Trasca che rimane sulla punta dall'altro lato della valle. Grazie a tutti. Quando va su, quando torna giù, tiri. Si dà una mano. Adesso niente, tiri adesso, tiri forte, lasci quando va su, tiri. Tiri. Ecco, vedi, quando va su, dite perché lo tira su. Quanti ce ne sono? Cinque. Bene, non ho mai fatto il campanaro. No? No. Ho visto. Eh. Sono buono. ? Ha fatto anche il campanaro oggi. oggi ho fatto anche il campanaro siamo capitati qui possiamo dire per caso nel senso che siamo venuti qui nella valle intrasca per provare la lago maggiore zipline che si trova poco più su sotto il comune di aurano e abbiamo deciso visto il tempo avverso di ieri di provarla stamattina e dormire qui in paese è un borgo molto carino arroccato a fianco della montagna molte gradinate diciamo che se non si è abituati a camminare si avverte subito un pochino la fatica però è veramente bello da visitare e noi siamo stati proprio qua sotto alla locanda del cinghiale che è un posto che regala in primo piano questi questi panorami questi visuali sulla valle grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti